Perché? Ma perché? Perché l'hai fatto? Eh? Come ho potuto fare la cosa? Come ho potuto fare l'amore con una mia paziente. Cioè io. Io. Cioè ho perso tutta la mia etica professionale. Eccomi. Non sapevi resistere. Un pello. Eccomi. Non si piglia schiava. Stai zitto. Cioè. Poi che si sta in giro. Cioè l'agente deve dire. Tutto. Tutto. L'amore con la paziente. Dove. Io non dovevo. Non dovevo. Non dovevo. Non è da. Ma non è da me. Non è da me. Non trovo la giustificazione. Non trovo la giustificazione. Ma dai diretta a me. Dai diretta a me. Sì. Come chi sono io? Sono lì da buonicchio. Lì. Signore. Tu devi continuare tranquillamente a fare quello che hai fatto. Ci sono un sacco di tuoi colleghi che fanno l'amore con le proprie pazienti. Tranquillamente. Tranquillamente. Sì. Continua anche tu. Continua anche tu. Non fare il fesso. Non fare il fesso. E' addosso. Tu vedi che non è niente? Vai. Ma che io mi stavo preoccupando. Capito? E' catenete. La gente. Ma te dice. Quando sei in cutin'estate? Quando sei martello? Batti. Ti ho fatto bene allora. Per me. Ehi. Ci volevo. Ci volevo l'incoraggiamento. Vento vento. Vai. Ma grande. Ti avvicchio? Così ci vedi? Ma se è l'uomo? Ormai è regolet. Regolet scusi. L'uomo è sempre l'uomo. Sono fatto buu. Sono fatto buu. Ma grande. Sì. chi sei? con chi sono? che razzo di domande fai? non si vede che cosa sono? l'angelo? me che vuoi? senti, tenevo a dirti che per me puoi fare quello che vuoi con le tue pazienti ci tenevo solo a dirti una cosa, tu sei un veterinario, non dimenticatelo, veterinario tu sei?